A tre giorni dalla presentazione delle liste, a Tortoreto c'è un nuovo rimescolamento di carte. A innescarlo è stata la decisione del PD di appoggiare la coalizione che fa capo ad azione di Libera D'Amelio, che di fatto, a cascata, avrebbe provocato anche uno smottamento interno all'ex listone di Domenico Di Matteo. E lo smottamento ha preso forma con la rinuncia a candidato sindaco di Mauro Calvarese per il raggruppamento che fa capo obiettivo Tortoreto, tanto che adesso potrebbe essere lo stesso Domenico Di Matteo a essere costretto a scendere in campo in prima persona. Anche la Lega tira dritto con una sua lista. Smentite le voci di una candidatura in prima persona del deputato Antonio Zennaro e del consigliere regionale Emiliano Di Matteo, così come di altri pezzi da 90 del partito come avvenne per Roseto, si è deciso di candidare a sindaco Nico Carusi, il vice segretario provinciale del partito, che è stato anche al centro della spaccatura, innescata tra il comitato elettorale di Domenico Piccioni e il partito di Salvini. Anche in questo caso, la spaccatura del centrodestra è innescata a reazioni a cascata, sempre ai danni del listone, visto che alcuni pezzi degli ex fratelli d'Italia avrebbero deciso di convergere sulla Lega e rimanere così più vicini all'area di centrodestra, piuttosto che rimanere nel progetto guidato da Calvarese, che in assenza dell'unità avrebbe deciso di tirarsi indietro. Poco male per Domenico Di Matteo, che è un suo tesoretto personale quantificato tra gli 800 e i 1000 voti, che gli consentirebbero comunque di giocarsi una partita in solitaria da candidato sindaco, appoggiato dai bagnatori ed alcuni pezzi del partito della Meloni che non sono confluiti nella Lega. Per il momento, ancora nel limbo, la posizione di Renato Straccialini dei 5 Stelle, che sembrerebbe voler rimanere fermo, salvo colpi di scena che a Tortoreto si sosseguono di minuto in minuto.